Secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, l'elisoccorso a Pescara è diventato un vero e proprio caso di malagestio. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha tenuto una conferenza stampa per rivolgere un invito al presidente Marsilio e all'assessore Verì affinché venga ripristinato il servizio perché, afferma Pettinari, stiamo pagando una navetta privata invece di mettere a norma l'eliporto. Stiamo parlando di un'elisuperficie realizzata a fianco all'ospedale di Pescara che è sempre funzionata. Poi un bel giorno si invendano un bando di gara, acquistano un elicottero che pesa molto di più della capacità dell'elisuperficie e quindi l'elicottero, l'elisoccorso, è costretto ad atterrare all'aeroporto di Pescara. Atterrando all'aeroporto di Pescara il paziente, parliamo di politraumatizzati, sono costretti a salire a bordo di una navetta ambulanza privata passare nel traffico cittadino, quindi perdere minuti importanti ed arrivare in pronto soccorso. Tra l'altro la navetta non è medicalizzata, quindi il medico a bordo dell'elicottero deve scendere, salire in un'ambulanza trasportare il paziente in pronto soccorso, ritornare in aeroporto e poi salire nell'elicottero. Questo tempo impedisce all'elicottero di andare a fare altri interventi. Non solo, questa navetta diamo un dato importante, un'ambulanza di una società privata ci costa 3.800 euro al mese più 0,39 centesimi a chilometro. Con il costo che si è speso per pagare questa navetta privata avrebbero potuto e dovuto mettere a norma l'elisuperficie che si trova, insiste, a fianco all'ospedale di Pescara. Quindi reiteriamo la richiesta all'amministrazione regionale attuale, al presidente Marsiglio, all'assessore regionale della sanità Veriddi e mettere a norma immediatamente, far partire i lavori. Questo può salvare la vita di una persona. È importante, gli altri elisuperfici si trovano vicino agli ospedali, i pazienti vengono trasportati tranquillamente e in un minuto si trovano già nel pronto soccorso. A Pescara non è possibile.